Segretario buonasera Giacomo Salvini del Fatto, volevo chiederle, lei prima diceva il ruolo di Draghi sarà molto importante, volevo chiederle, la prendo diciamo in un altro modo, cioè è importante che Draghi rimanga a Palazzo Chigi anche per le emergenze che lei diceva prima e se esclude quindi che la Lega lo possa votare per mandarlo al Quirinale e poi l'altra cosa lei prima diceva, saremo tutti, eleggeremo un Presidente che farà contenti tutti, allora mi dice il suo profilo del Presidente che ha immaginato prima, grazie. Un profilo di alto livello e per quanto riguarda Draghi posso solo ripetere quello che è la mia convinzione, non penso solo la mia, averlo a Palazzo Chigi da italiano mi rassicura, poi io non sono padrone dei destini di nessuno, ripeto che la Lega come forza di governo responsabile e forza trainante del centrodestra avrà l'onore e l'onere di proporre delle soluzioni che partano dal campo che ha più numeri in Parlamento, questa è matematica, non è politica, è aritmetica e quindi chi ha più numeri in Parlamento ha l'onore e l'onere di fare delle proposte che possano trovare ampio consenso. Mi auguro a proposito di emergenza sanitaria che possano esercitare il loro diritto di voto in totale sicurezza tutti i parlamentari, nessuno escluso, se si escludessero dei parlamentari dalla scelta più importante per gli italiani che è il Presidente della Repubblica sarebbe dal nostro punto di vista un problema, ci sono professioni che comportano, che tutti accedano alla professione, vista la delicatezza della professione a prescindere dalla situazione, se uno è positivo, asintomatico può fare tranquillamente il suo mestiere in altri campi e secondo me dovrebbe avere anche il diritto di scegliere il Presidente della Repubblica di tutti la settimana prossima, però lo lascio in mano dei Presidenti e delle Camere, non sto a fare richieste. È una riflessione visto che non si vota un decreto legge, una manovra economica, un ordine del giorno, si elegge il Presidente che per sette anni garantirà l'unità di quella coesione di questo Paese, penso e spero che tutti i parlamentari possano partecipare. Poi finalmente lunedì si comincerà a votare così almeno tutti i retroscena, anche fantascientifici che leggo sui giornali, che mi imputano pensieri così intelligenti che a volte neanche io ce l'ho arrivato, però passeremo ad altro in modo tale da tornare quei piedi per terra. Simone Canetteri del Foglio. Due domande rapide. La prima, le chiediamo così per prassi, cosa si è detto con Berlusconi dopo questa lunga e cordiale conversazione, immagino tutte rosse e fiori, comunque giusto chiederlo, e la seconda è, comunque vada, il governo che andrà avanti dopo l'elezione del Presidente della Repubblica, secondo lei dovrà avere un'iniezione politica e anche leghista in più rispetto oggi, ergo, via i più tecnici, via i tecnici e dentro i più politici? Grazie. Mi sono impegnato a parlare di energia, apprezzo la virtù dei colleghi giornalisti che stanno cercando di infilare domande con artifici retorici assolutamente rispettosi e rispettabili, i contenuti delle telefonate e degli incontri li tengo per me, l'impegno è che il centrodestra scelga compatto, voti compatto e delegga compatto. Poi ho letto di rimpasti, la mia è una semplice riflessione, sarà il 2022, è giusto essere franchi con gli italiani, sarà un anno impegnativo, caro energia, caro materie prime, inflazione galoppante, renderanno il 2022 un anno economicamente complicato. Se ci aggiungiamo che è l'anno di scadenza elettorale è chiaro che rischia di essere impegnativo e quindi tutti dovrebbero metterci il massimo delle energie ai massimi livelli per garantire tranquillità, stabilità, serenità, il che non vuol dire che uno rivendica questo, rivendica che io sono contentissimo della qualità e dell'operato dei ministri dalla Lega al Governo, se tutti credono in questo Paese e in questo Governo ci devono mettere il massimo delle energie.